La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Economia di Unimore ha organizzato un incontro aperto a tutti con Marco Bizzarri, amministratore delegato di Bottega Veneta, azienda leader di prodotti di lusso. L'incontro fa parte di un ciclo di appuntamenti organizzati dalla Facoltà in collaborazione con l'agenzia WWLab. Abbiamo intervistato il professor Tedeschi per approfondire l'argomento. L'incontro di oggi è stato organizzato per parlare di questo caso che è un po' unico nel mondo dell'imprenditoria ma anche un po' del lusso. È un'impresa che ha un brand che è Bottega Veneta ma tutti i suoi prodotti non sono marcati quindi non si riconosce il prodotto chi è che lo fa. Questa è una scelta strategica molto importante che è stata fatta dieci anni fa quando Bottega Veneta è stata acquistata dal gruppo Gucci ed è stata fatta questa scommessa quindi di un posizionamento sul mercato molto diverso rispetto ai competitor facendo leva su quelli che erano i valori originali dell'azienda e quindi l'artigianalità, l'elevata qualità, un numero molto limitato ed esclusivo di pezzi che hanno riportato in auge alla fine il marchio confermando quindi quella che era un po' l'idea originale di lusso quindi un prodotto estremamente esclusivo in numeri molto piccoli e assolutamente artigianale. Bizzarri ha parlato della crisi economica che ha colpito a livello mondiale un po' tutto il settore però ha anche detto che c'è stata una grandissima crescita di vendite nella loro azienda è un caso in effetti anomalo. Sì, anche se può sembrare difficile diciamo pensarlo o crederlo in realtà la crisi ha colpito pesantemente anche il mercato del lusso e uno pensa che il lusso in realtà rimanga quasi sempre un po' indenne da queste cose perché la sensibilità al prezzo di questo tipo di consumatore è ovviamente molto limitata. Nella realtà dei fatti la crisi ha colpito pesantemente le aziende soprattutto quelle non molto strutturate sotto il profilo finanziario quindi molte hanno sentito il peso della crisi. Nel caso di Bottega Veneta invece non è che ne è passata indenne ha avvertito in maniera meno rilevante rispetto ad altri competitor la crisi e credo che il vantaggio sia stato dato esattamente a questo suo posizionamento così particolare ed esclusivo molto diverso rispetto a quello degli altri competitor sul mercato del lusso. L'incontro di oggi chiude un ciclo di incontri molto interessanti che hanno avuto luogo presso la facoltà di scienze della comunicazione e dell'economia come incontri, un ciclo di incontri rivolto appunto agli studenti ma anche ai cittadini interessati. Come incontri è un ciclo di appuntamenti che da qualche tempo la facoltà porta avanti in collaborazione con l'agenzia VVLab che è un'agenzia di comunicazione qui del territorio e l'obiettivo è un po' quello di voler fare sempre un po' il punto su aspetti interessanti della comunicazione e della comunicazione economica in qualche modo quindi abbiamo sempre cercato di sposare questa doppia linea della comunicazione da un lato ma anche dell'impresa dall'altro quindi abbiamo sempre cercato di organizzare degli incontri su temi che ci sembravano in qualche modo interessanti che consentissero di mettere a confronto tra di loro da un lato un testimone di un'impresa quindi il mondo dell'economia e dall'altro quelli che si occupano di comunicazione quindi vedere lo stesso problema da due differenti punti di vista. L'idea è quella di fare degli appuntamenti mensili però non sempre ci riusciamo ovviamente perché non riusciamo sempre a coordinarci anche con i nostri ospiti l'idea però è di avere una serie di appuntamenti continui durante l'anno per diventare un po' la facoltà il punto di riferimento per quanto riguarda la comunicazione e l'impresa quindi un argomento che è abbastanza nuovo tutto sommato per il territorio anche e che consente all'impresa di un po' capire di che cosa ci occupiamo noi consente agli studenti di vedere cosa si fa in impresa davvero e quindi di riuscire a capire se quello che stanno studiando effettivamente avrà un riscontro poi da lì a qualche tempo mi auguro per loro brevi tempi ovviamente ed è un'occasione quindi per cercare di mettere insieme università, impresa, l'università e il proprio territorio di riferimento che è notoriamente uno dei temi a noi caldi e interessanti